Al via questa sera la Sagra della Castagna di Serino, l'evento tra i più antichi d'Irpinia, aprirà i battenti nella frazione Rivottoli con una novità gustosa che coinvolgerà chef locali e non. Allora, come ogni cosa che comincia si dice, c'entri sti uorni. C'entri sti uorni è l'augurio che uno può fare a tutti, indistintamente dalla religione. E noi abbiamo fatto 100 piatti da tre chef diversi, io, Ugo D'Alessandro, Antonietta Polcaro e Lello Romano, campione mondiale col suo panettone. Il ricavato verrà poi distribuito in buoni pasto il giorno di Santa Claus alle persone bisognose del paese con l'augurio 100 sti uorni per fargli passare un Natale con l'augurio e con la presenza di Serino e della Prologo di Serino e naturalmente della Castagna. Segno che la Sagra della Castagna non è solo enogastronomia, non è solo un evento, ma è qualcosa di più, unisce solidarietà, tradizione e anche un pensiero verso gli altri. La Sagra della Castagna è, come dice la parola, pro loco, è una cosa per il luogo, quindi ogni cosa fatta per il luogo serve affinché tutto possa valorizzare ciò che è una terra. La nostra terra, l'Irpinia, in questo caso Serino e la frazione di Ribottoli.